Senza il suo bomber e con l'uscita di scena di Roccotelli il Cagliari si ritrova dopo le prime 15 giornate in lotta per la retrocessione. La società cede alle pressioni dei tifosi che contestano anche Capuzzo e Villa. Questa coppia affiatatissima sarà capace nel volgere di un triennio con qualche piccolo ritocco all'organico di riportare il Cagliari fino alle soglie dell'alta classifica in Serie A. Ma adesso siamo nel febbraio del 1978 ed è necessario rinvocarsi le maniche.